La polemica di queste ore, Pescara e D'Annunzio, l'attuale giunta ha tolto il logo di Pescara città d'Annunziana dai documenti ufficiali del comune e voi invece avevate caratterizzato proprio Pescara come città d'Annunziana, insomma il suo pensiero qual è? Intanto la legittimità degli atti, non è stata la giunta ma è stata una disposizione del sindaco che ha cancellato invece una delibera di giunta con la quale avevamo istituito questo logo per marcare ancora di più, se mai ve ne fosse bisogno, il legame profondissimo tra Pescara e D'Annunzio. Noi non abbiamo D'Annunzizzato Pescara, c'è un legame forte tra Gabriele, tra il Vate e Pescara e Pescara si beneficia di questo. L'altra questione è quella di una sorta di damnazio memorie da cui sembra essere affetto questo sindaco che governa questa città da due mesi e non si preoccupa di dire ai cittadini che lo hanno eletto e anche a quelli che non lo hanno eletto qual è la sua visione di città, invece si preoccupa insieme alla sua giunta, insieme a qualche suo consigliere di distruggere o eliminare tutto quello che la passata amministrazione democraticamente con il consenso popolare aveva realizzato e che aveva realizzato bene, che aveva realizzato con coscienza e che aveva realizzato nell'interesse di Pescara. Dove deve arrivare questa damnazio memorie fino a distruggere l'aurum, l'europaurum, altre opere identitarie che sono state fatte in questi anni con i soldi dei cittadini pescaresi? Io lo chiedo ad Alessandrini, ho fatto il sindaco di questa città e non mi sono nemmeno sognato di eliminare piastrelle su cui invece c'era un simbolo di Pescara città vicina che era piuttosto anonimo ma che comunque era stato realizzato dalla passata amministrazione, tant'è vero che la città è disseminata di questo simbolo. Io non ho certamente fatto mancare la manutenzione al ponte del mare, non mi sono mai sognato di eliminare cose che erano state realizzate giustamente e legittimamente dalla passata amministrazione. Insomma, dopo due mesi di governo Alessandrini dovrebbe iniziare davvero a guardarsi allo specchio e chiedersi cosa vuole fare di Pescara e renderne conto ai pescaresi.